Non si hanno ancora notizie dei giovani albiesi scomparsi la sera del 25 gennaio scorso. Si tratta di due amici minorenni, Giuseppe Contini di 15 anni e Carol Cano di 17. Entrambi irreperibili, i loro telefoni infatti risultano spenti dalla sera di giovedì quando sarebbero stati visti per l'ultima volta in un autobar di via Roma. Sono giorni di apprezzione e continue ricerche. Proprio ieri, domenica 28 gennaio, le famiglie insieme a un gruppo di volontari composto per lo più da parenti e amici si sono dati appuntamento in via Barcellona Alta per perlustrare le vie limitrofe. A lavoro anche le forze dell'ordine, ma sull'indagine al momento vi è il massimo riservo. Le foto e caratteristiche fisiche dei due minori continuano a circolare anche sui social dopo i numerosi e disparati appelli dei familiari. Al momento della scomparsa Giuseppe Contini indossava un piumino nero, jeans neri strappati e una felpa di colore rosso e nero. Per quanto riguarda i seni particolari, una cicatrice sul sopracciglio destro. Carol Cano invece indossava felpa, cuffia, pantaloni e scarpe tutte di colore nero e un orecchino sul lobo destro. Ricerche senza sosta che si stanno allargando oltre che in città anche le campagne e paesi limitrofi.